I misteri irrisolti offrono un'esperienza allettante per tutti coloro che hanno un'innata curiosità nel comprendere e risolvere gli enigmi. Le persone sono spesso affascinate dall'ignoto e dall'inspiegabile, ed i misteri irrisolti rappresentano un mondo di incertezze e di intrighi davvero affascinante. Ed oggi ne scopriremo qualcuno assieme. Le navi di Nemi erano due antiche navi romane che furono scoperte nel lago di Nemi vicino Roma verso l'inizio del XX secolo. La più grande delle due era lunga oltre 70 metri ed era considerata una delle navi antiche più grandi mai costruite. Attribuibili all'imperatore romano Caligola nel I secolo d.C. erano come palazzi galleggianti per uso personale. Erano incredibilmente lussuose ed avevano caratteristiche come bagni riscaldati, pavimenti a mosaico e colonne di marmo. Le navi avevano anche sistemi di riscaldamento a pavimento utilizzato in epoca romana che consisteva in una serie di canali e condotti sotto i pavimenti delle navi che permettevano all'aria calda di circolare e riscaldare le stanze. Avevano anche altre caratteristiche di riscaldamento come forni o caldaie che venivano utilizzati per riscaldare l'acqua per i bagni e per fornire calore nelle altre aree della nave. I sistemi di riscaldamento delle navi erano un'impressionante opera di ingegneria per l'epoca e dimostrano le incredibili capacità tecnologiche avanzate degli antichi romani. Dopo la scomparsa di Caligola, le navi di Nemi furono affondate nel lago e rimasero sott'acqua per quasi 2000 anni, fino a quando vennero recuperate in un'impresa archeologica condotta tra il 1928 ed il 1932. In un primo tempo le navi vennero riposte sulla riva del lago, protette da teloni bagnati che limitavano l'essiccazione del legno. Successivamente vennero esposte in un museo costruito appositamente per loro. Purtroppo però, entrambi le navi di Nemi vennero distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale ed oggi ne rimangono solo piccoli frammenti. Tuttavia, questa storia ha catturato l'immaginazione degli storici e del pubblico e rimangono un esempio affascinante dell'ingegneria e della stravaganza dell'antica Roma. Le navi sono un esempio di brillante ingegneria per il loro tempo. Gli antichi romani erano abili costruttori navali ed ingegneri e le navi erano una testimonianza della loro esperienza. Le navi di Nemi erano alcune delle navi più grandi ed elaborate per il loro tempo e vennero costruite con un alto grado di maestria ed attenzione ai dettagli. Furono anche progettate per essere funzionali con caratteristiche come i sistemi di riscaldamento ed altri comfort che le rendevano confortevoli e vivibili per i loro occupanti. Il fatto che le navi furono affondate nel lago e sono poi rimaste preservate per quasi 2000 anni sono una testimonianza della loro durabilità e della qualità della loro costruzione. Gli storici, gli studiosi ed i ricercatori spesso ridicolizzavano l'idea che i romani fossero in grado di costruire navi così grandi ma con la scoperta delle navi di Nemi hanno ammesso che si sbagliavano sulla tecnologia romana ed hanno affermato che ciò li ha portati a chiedersi addirittura di cosa fossero capaci. Il fuoco greco era un'arma utilizzata dall'impero bizantino nel periodo medievale principalmente tra il VII ed il XII secolo. Era un'arma incendiaria altamente efficace che poteva essere utilizzata per incendiare le navi nemiche e causare caos e distruzione sul campo di battaglia. L'esatta composizione del fuoco greco non è nota con certezza poiché la formula era un segreto gelosamente custodito. Oggi sappiamo più o meno che poteva essere composta da pece, zolfo, nafta, sal, nitro e calcevito. Tuttavia si ritiene che fosse un tipo di fuoco liquido che poteva attaccarsi alle superfici e continuare a bruciare. Non poteva essere neutralizzato con la semplice acqua. La miscela incendiaria veniva messa in grandi utri di pelle o di terracotta che venivano collegate a tubi di rame e spruzzata direttamente verso le imbarcazioni avversarie. In alternativa i vasi venivano lanciati attraverso le petriere e gli avversari non potevano far nulla per spegnere l'incendio che divampava. Spegnere il fuoco liquido era un'impresa pressoché impossibile all'epoca. Solamente i bizantini, che ne conoscevano la ricetta, erano in grado di spegnere gli incendi generati da questa miscela potentissima. Oggi sappiamo che l'unico modo per neutralizzare il fuoco greco era utilizzare l'urina, l'aceto o la sabbia. All'epoca però gli invasori non sapevano che questo fosse il segreto per spegnere il fuoco liquido e fu proprio tale segreto a determinare il successo dei bizantini in numerose battaglie. Effettivamente è stato proprio grazie a questa invenzione innovativa che i bizantini sono riusciti a respingere il secondo assedio di Costantinopoli e a sconfiggere quindi gli arabi musulmani. A dire il vero, l'espressione fuoco greco venne coniata proprio dalle popolazioni straniere, poiché i bizantini chiamavano questa miscela fuoco liquido o fuoco romano. Una delle leggende più intriganti e sconcertanti degli aborigini australiani è quella dei Wandina, gli esseri spirituali, supremi e creatori della terra e delle persone. La terra dei Wandina è una vasta area di circa 200.000 km2 di terre, acque, mare e isole nella regione del Kimberley e l'Australia nord-occidentale con una cultura continua risalente ad almeno 60.000 anni fa ma probabilmente molto più antica. Qui la legge e la cultura aborigina tradizionale sono ancora attive e vive. I dipinti rupestri dei Wandina sono noti per il loro stile distintivo e la loro raffigurazione di figure umanoidi con grandi occhi rotondi ma senza bocca. Si ritiene che queste figure rappresentino un genere di spiriti considerati i creatori della terra e i guardiani delle persone. I dipinti sono tipicamente realizzati utilizzando ocra rosso e bianca e si trovano in una varietà di luoghi, comprese grotte, ripari rocciosi e strapiombi. Molti dei dipinti si trovano in aree remote e difficili da raggiungere e sono considerati di grande significato culturale e spirituale per gli indigeni della regione. Che si pensa siano anche tra i più antichi esempi di arte rupestri al mondo. Costituiscono una parte importante del patrimonio culturale del popolo wandina e sono anche riconosciuti come un importante sito archeologico ed artistico. A causa delle raffigurazioni di umanoidi, alcuni hanno suggerito che le figure siano in realtà degli extraterrestri, notando inoltre che queste interpretazioni possono essere viste in varie pitture rupestri un po' in tutto il mondo e suggeriscono che forse gli antichi esseri umani sarebbero entrati in contatto con qualcosa di ultraterreno. Gli storici però hanno affermato che i dipinti rupestri dei wandina non raffigurano alieni ma bensì rappresentino gli spiriti che sono una parte molto importante delle tradizioni religiose e culturali indigene della regione del Kimberley. Esiste una città sacra nello Sri Lanka con il nome di Anuradapura che è stata riconosciuta anche patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Uno dei fattori più curiosi però si trova nel parco urbano di Ranmasuiana un manufatto misterioso che sembra svelare i segreti dell'universo che da tempo affascina studiosi ed appassionati del paranormale. Il manufatto è un disco di pietra circolare che misura circa 1,80 m di diametro con intricate incisioni di motivi cosmici e geometrici. Le origini di questo Stargate dello Sri Lanka sono avvolte nel mistero con alcune teorie che suggerirebbero che sia stato creato da un'antica civiltà con conoscenze avanzate in astronomia e cosmologia. Si dice che tale incisioni sul disco raffigurino una varietà di oggetti celesti tra cui stelle, pianeti e galassie nonché simboli e diagrammi legati ad antiche tradizioni religiosi e spirituali. Uno degli aspetti più intriganti di questo Stargate dello Sri Lanka è la sua presunta capacità di agire appunto come un portale o una porta verso altre dimensioni e realtà. Secondo alcuni resoconti il disco Un Tempo è ora... Secondo alcuni resoconti il disco Un Tempo era utilizzato dagli antichi sacerdoti o sciamani come mezzo per accedere ad altri regni di coscienza e comunicare con altri mondi. Ora, anche se le affermazioni sulle capacità soprannaturali dello Stargate rimangono non provate il manufatto continua ad affascinare ricercatori ed appassionati del paranormale. Alcuni hanno addirittura ipotizzato che il disco possa avere origini extraterrestri o che potrebbe contenere la chiave per svelare i segreti dell'antica civiltà avanzata. Nonostante gli intrighi e le speculazioni che circondano questo disco il manufatto rimane oggetto di dibattito e controversi all'interno della comunità scientifica ed archeologica mentre alcuni credono che il disco possa contenere indizi importanti per svelare i misteri dell'universo altri in realtà sono scettici sui suoi presunti poteri ed origini. Nonostante comunque le incertezze che circondano questa roccia le sue misteriose incisioni e la storia intrigante continuano a catturare l'immaginazione di coloro che cercano di comprenderne i segreti. Resta da vedere però se il manufatto contenga o meno la chiave per svelare tali segreti ma il suo studio e le sue indagini continueranno ad ispirare senza dubbio nuove scoperte di intuizioni per gli anni a venire. La miniera d'oro dell'olandese perduto è una miniera leggendaria che si dice si trovi da qualche parte tra le montagne Superstition in Arizona, negli Stati Uniti. Secondo la leggenda la miniera conterrebbe un'enorme fortuna in oro ed altri metalli preziosi ed è ricercata dai cacciatori di tesori ed avventurieri da oltre un secolo. La storia della miniera d'oro dell'olandese risale alla metà del XIX secolo quando un immigrato tedesco di nome Jacob Wals, noto anche come l'olandese affermò di aver scoperto la miniera mentre faceva delle ricerche proprio sulle montagne Superstition. Secondo Wals, si sarebbe imbattuto in una vena d'oro così ricca che era in grado di raccogliere semplicemente grandi quantità d'oro raschiando la superficie delle rocce con un coltello. Nel corso degli anni, la storia della scoperta di Wals divenne una leggenda e molti cacciatori di tesori ed avventurieri avrebbero tentato di localizzare questa miniera perduta. Tuttavia, nonostante ricerche approfondite, la miniera non è mai stata trovata e lo stesso Wals morì senza rivelare mai la sua posizione. Nonostante quindi la mancanza di prove concrete, la leggenda della miniera d'oro dell'olandese perduta continuò ad ispirare fascino e speculazione e molte teorie e storie emersero sulla sua posizione e sul destino di coloro che la cercavano. Alcuni sostenevano infatti che la miniera fosse sorvegliata da forze soprannaturali. Nei decenni successivi furono lanciate innumerevoli spedizioni alla ricerca della miniera perduta e molte storie emersero di cacciatori di tesori che presumibilmente l'avevano trovata solo per incontrare la sfortuna e poi scomparire in circostanze misteriose. Tuttavia, nonostante la ricerca persistente, la miniera d'oro non è mai stata individuata in modo definitivo ed oggi la leggenda della miniera d'oro rimane un argomento popolare tra i cacciatori di tesori, tra gli avventurieri e gli appassionati di folclore. Mentre alcuni credono che la miniera sia puramente un mito, altri continuano a crederci e a cercare la sua posizione sfuggente sperando di scoprire un giorno questa vasta fortuna che si dice sia nascosta tra le montagne. Ebbene amico, questi erano solo alcuni dei più grandi misteri archeologici che ci sono in giro per il mondo. Ne esistono tanti altri, ma tu fammi sapere con un commento quale ti è sembrato il più sbalorditivo. Io per oggi ti saluto, a noi ci rivediamo venerdì con il video horror. Ciao!